Questo è l'appuntamento con l'oroscopo che parte subito dal riete. Sarete orgogliosi di voi, della vostra tenacia, dei vostri sforzi, del vostro impegno oggi. Siete ambiziosi, ma di quell'ambizione buona che è desiderio di riuscire con impegno e con le proprie forze. Toro, oggi senza arroganza o presunzione sentite che tutto per voi sia possibile e raggiungibile, forse ora che cominciate a guardare la vostra situazione da una prospettiva diversa. Gemelli, basta rimandare. Forse da troppo tempo vivete in un limbo di decisioni non prese, di cose che non accadono e di cose che non vanno come vorreste. Gli astri vi daranno il coraggio per cambiare. Cancro, non siete poi così tranquilli come vorreste dare a vedere. Forse la situazione è tesa da un po'. Oggi però troverete il coraggio di dire cose che mai avreste pensato potessero uscire dalla vostra bocca. Leone, oggi forse segnerete un punto di non ritorno. Le stelle mineranno il vostro rapporto di coppia. Come un vestito strappato forse oggi capirete che non può tornare nuovo nonostante un rammendo ben fatto. Vergine, fate il vostro lavoro al meglio. Correte a casa a regalarvi una serata relax tutta divano, letto e amore. Oggi seppure il lavoro vi assorbirà completamente, riuscirete comunque a ritagliarvi qualche momento tutto per voi. Bilancia, 24 ore piene di cose, persone e parole. Al lavoro si chiuderanno oggi accordi strategici che segneranno un cambiamento epocale per voi. Scorpione, oggi è solo questione di decidere e agire. Non è più ora di rimandare, non è più tempo di aspettare. È giunta l'ora di dare il via a un progetto che avete tenuto chiuso nel cassetto per troppo tempo. Sagittario, qualcuno vorrà approfondire la vostra conoscenza e la serata sarà rivelatrice. Il grosso della settimana se ne è già andato. Intanto distratti come siete, sarà facile sorprendervi con una dichiarazione d'amore in attesa. Capricorno, fate un po' di fatica in questi giorni, ma oggi non riuscite a far altro che pensare al weekend. Energie, fascino, la battuta sempre pronta. Acquario, le stelle vi daranno una forza e una risolutezza che non immaginavate di avere. Qualche nube in amore al mattino che poi a sera sparirà del tutto. Pesci, giornata rilassata, tanto da avere il tempo di recuperare un po' di relazioni personali trascurate nei giorni scorsi. Sarà tutto un chiamare, messaggiare e chattare. E oggi potrebbero essere anche elementi indispensabili per raggiungere un importante obiettivo professionale.